L'associazione Insieme per il quarto anno promuove la manifestazione Disability che non è altro che una rappresentazione di tutte le discipline paralimpiche della provincia di Salerno integrato con i ragazzi normototati. Noi crediamo che bisogna effettuare questa manifestazione per promuovere sempre di più la disabilità nella stessa provincia, in quanto riteniamo che gli atleti disabili paralimpici effettuano il doppio dello sforzo per raggiungere le strutture sportive. Quindi crediamo che bisogna sempre di più agevolare questi atleti affinché possano effettuare lo sport, tant'è vero che lo slogan della manifestazione è lo sport è per tutti. Quindi noi crediamo che Disability debba essere un trampolino di lancio, un punto di riflessione che possa portare alla luce il grande sforzo che quotidianamente effettuano questi atleti. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno aderito gratuitamente alla manifestazione, ringrazio il centro di coordinamento della Serenitana che ci accompagna da anni ormai alla promozione di questo evento, ringrazio il punto di Baronissi per l'assistenza medica che ci fornisce. Che cosa dire di più? Attendiamo fiduciosi la gente di Baronissi che possa venire ad osservare e a vedere queste persone, questi atleti che si allenano e che si manifestano al Palairno. Crediamo che bisogna abbattere le barriere culturali che ancora esistono, per abbatterle c'è bisogno di una presenza massiccia. Ringrazio il presidente del centro di coordinamento Riccardo Santoro e vi aspetto numerosi oggi pomeriggio. Quindi sensibilizzazione e integrazione su un tema fondamentale che è quello della disabilità. Quali sport vengono svolti oggi pomeriggio? Allora verrà effettuato, verrà svolto il sitting volley che sarebbe la palla a volo seduto, poi ci sarà il basket in carrozzella, poi ci sarà la scherma, ovviamente svolta su una pedana in carrozzella. Ci saranno altre discipline effettuate dai ragazzi normodotati in collaborazione anche con il CUS di Salerno, che ringrazio il presidente Lentini per il patrocinio che ci ha voluto donare.